Non ci ha pensato su due volte quando c'è stato bisogno del suo aiuto. Sprezzante del pericolo, è riuscito a salvare una vita umana. È per questo motivo che è stata consegnata al volontario Cree Piacenza, Andrea Zonca, la medaglia d'argento al merito conferita dal Presidente Nazionale della Croce Rossa Italiana. Un atto eroico avvenuto lo scorso 5 giugno sulla strada di Calendasco. Ho visto proprio l'incidente in diretta, è successo proprio davanti ai miei occhi, quindi c'era sicuramente qualcuno all'interno del veicolo. Sono sceso sotto il canale di regazione, ho visto che la macchina era abbastanza stabile, che non si correvano tantissimi rischi e ho fatto quello che ho fatto. Niente, ho aperto lo sportello e ho tirato fuori il ragazzo dalla macchina. Un gesto talmente spontaneo che credo che chiunque avrebbe fatto. Ha salvato una vita umana mettendo in pericolo la propria. Il Presidente Nazionale ha ritenuto di conferire una medaglia d'argento per quello che ha fatto. Considerate che nell'Assemblea Nazionale di Croce Rossa, celebrata a Solferino sabato scorso, sono state assegnate tre medaglie, una d'oro e due di argento. Una delle due d'argento è arrivata a Piacenza, quindi veramente grande motivo di soddisfazione. Tutti i giorni senza... Senza...